Squalo contro squalo, vai attaccalo! Amici, oggi su Fortnite abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere e di domare uno squalo Quindi oggi abbiamo due obiettivi, vincere che sarà abbastanza difficile e domare uno squalo che anche quello sarà molto difficile Quindi nel dubbio vi invito a supportarmi con un mi piace, commento, condividere il video, fate tutto quello che volete E incrociate le dita perché non ho mai domato uno squalo nella mia vita Sarà difficile, iniziamo Ci troviamo sul bus della battaglia che parte qui dalla fortiglia Ho fatto pure rima incredibile, andiamo al pozzo Ce ne andiamo al pozzo traballante anche perché la fortiglia è ottimo perché c'è il giag infinito che tipo ci sta un casino È quello che ti dà il massimo di vita e il massimo di scudi Però mi sa tanto di pieno di gente Quindi dato che il nostro obiettivo è quello di trovare uno squalo, picchiarlo malamente e riuscire a cavalcarlo perché a non andare qua Che tra l'altro è anche una zona molto carina Ovviamente poi dopo aver preso lo squalo andiamo a farci una vittoria No ti prego, ecco c'è già un tipo, panico, panico totale Ah ma non ci ha visti, che pollo Ok che rischio, che rischio, che rischio, che rischio Che rischio, ok non ce l'ha visti Comunque parere mio fatemi sapere cosa ne pensate La tripletta che ormai è diventata una doppietta è stra ma stra più scarsa in questa nuova stagione dopo l'aggiornamento E tra l'altro quel pompa non mi piace per niente però vabbè per ora ce lo teniamo Però mi fa di uno schifo totale E ok andiamo Non so se c'era solo un tipo, non ne ho assolutamente idea, nel dubbio Mi do una bella lutata di zona Tipo sto pompa lo prendiamo subito Lo preferisco un miliardo di volte E niente Tra l'altro guardate che figata Guardate che figata Dai esplodi Ma dai non l'ha preso Se ne trovo un altro ve lo faccio vedere Cioè davvero ho pescato due pesci viola Che chiulo Allora il mio piano è prendiamo la barca E poi ce ne andiamo sostanzialmente a cercare lo squalo Ah ecco qua la canna da pesca, perfetto Quindi mi do appunto ancora un'altra lutata Cerco quel robo da far esplodere Perché magari molti di voi lo sanno però non voglio anticiparvi nulla E niente, vediamo di trovare uno squalo Allora canna da pesca presa Quel robo per far esplodere non l'ho trovato Comunque potete mandare a fuoco i vari edifici Oddio non so parlare E niente, ora non ci rimane che trovare uno squaletto Sarà facile, sarà difficile Non ne ho assolutamente idea Di solito ne trovo 700 Adesso che registro non ne trovo mezzo Perfetto, ok E allora voglio volare con la barca Vola massa, vola 360, vai vai 360, 360 360 Yeah, bella sta zona tra l'altro Molto bella C'è un tipo C'è un tipo Salve Sì, salve Siamo della folletto Vorremmo fare un paio di controlli Sì, pushami, pushami No, 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 no Mi shotta Ok Mamma Oh, mi ha sparato Mi ha sparato, mi ha sparato No, 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 no Allora, allora, allora Piano Da lì mi ha sparato Eccolo lì lo squalo Lo vedo, lo vedo Ah, c'è il caccia sto tizio Eh, vabbè Facciamolo pushare Ok Mi sta pushando come un idiota Si sta prendendo le peggio sberle Va bene, scelta tua No, no, squalo Attacca lui Non attaccare me Devi attaccare lui Vabbè, ma fai schifo Cioè, dillo Ok, ora che siamo qui Mi riparo un secondo Vieni, squalo Vai A bocca Dai, a bocca Squalo No, no, non facciamo errori Squaletto Non facciamo errori Sì Sì Aia No No, non ci credo Fail Che fail Che fail No, no, no Via, 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 via Rifacciamo Oh, c'è una jam Rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo Allora Noi siamo qua Sì È tutta tua È tutta tua L'ha preso, l'ha visto L'ha preso Yes Yes Ora Salto, accelerazione What? No, vabbè Vabbè Salta Stiamo guidando uno squalo Vai, squalo contro squalo Vai, attaccalo Accelerai addosso Oddio, che bello Doppio squalo Che bello Bene Figo, mi è piaciuto Mi è piaciuto Quindi io posso attaccare la gente Ok È stato bellissimo Signori, è stata una delle cose più belle della storia Però, purtroppo, dobbiamo abbandonarlo Squaletto Sei stato molto bravo È stato un'ora No Stai buono Stai buono, squaletto Ti stai rivoltando contro il tuo padrone Oh, io ti ho addestrato Ti ho portato con me in giro in vacanza E tu mi fai questo Stupido, schifoso squalo Almeno dammi del loot buono Vediamo quanta roba c'hai Allora, pompa viola Preso Presissimissimo Ok, per ora può bastare Perfetto Bravo squalo Vediamo dove si chiude la se... Ah, da noi Uh Interesting situation Prendiamo pure il getto E al getto C'è un elicottero C'è un elicottero Un elisguattero Dov'è l'elisguattero? Ecco Salve Vieni, vieni Vien, c'è, vien E sì, non c'ho paura Non c'ho paura Dai, cosa scappi? Allora, so che è un errore Ma mi sa che mi conviene Cioè, non mi conviene Però voglio andare Oh, dov'è l'elicottero? Oh, what? Ah, già che ci sono i meteoriti Oh, se voi lo sapete Perché... Ok, stavo morendo Di sicuro lo sapete Cosa c'è nei meteoriti? Il loot dei meteoriti Perché secondo me Cadono e ti danno pure del loot Ne sono abbastanza sicuro Ma non so cosa c'è Quindi nel dubbio Scrivetemelo vosotros Io direi di andare all'airsprots Che ci può conservare E dare buone cose E niente Speriamo di non morire Hanno aperto l'airdrop Letteralmente adesso Guardalo lì, guardalo lì Il pollo Guardalo lì il pollo Dai, muori Non hai vita Schifoso lurido Ah, schifoso Ah, schifo Ti inseguo Ti inseguo Fino alla fine dei tuoi giorni Pap, pap, pero Non hai speranze Non pensarci neanche a far... Eh, lo sapevo Pup, pup, pup Che schifoso Cosa voleva fare Cosa voleva fare Dammi tutto quello che avevi Eppure questo cecco Va, che lo preferisco Perfetto Perfetto Sta partita Sta andando molto bene Molto bene Eh, lasciami paracadute Sì, dai Mi prendo la mitraglietta blu Che mi piace tipo troppo E, buono, dai 8 persone 4 kill Lo scuolo è stato domato Ora non ci rimane che fare Quella cosina Che non dico Perché altrimenti porta sfortuna Oh, mi sa che c'è gente lì Sì, ce l'ha un tipo Ma straimboscato Quindi Sì, sì, è là dentro Quindi so che non conviene Anzi, aspettiamo la safe Dai Aspettiamo di vedere dove va la safe E poi col getto d'acqua Ci andiamo Eh, qua dietro Sì, ok Dove siamo atterrati? Tra l'altro Stra coincidenza Vai Perfetto E voliamo nella safe Oh, comunque incredibile Che la safe si chiude Esattamente Esattamente Mi è arrivata una cerchinata Dove siamo atterrati? Dai, ziti, ho visto Ti ho Assolutamente Noo Ti sei salvato Esplodi Dai Va bene, va bene Stiamo facendo No, mi sa che c'è il rampi C'è il rampino Dai, è troppo forte il rampino È troppo forte Lui è la mia prima vittima Quello che deve morire prima Perché il rampino proprio È fuori di testa Ora, mancano sei persone Più me, ovviamente E niente Aspettiamo di vedere Dove sono tutti E poi fightiamo Con una prepotenza E un'arroganza Che ha dell'innaturale Però ci proviamo Tipo uno E va Dai, sali Sali Perfetto Se è il rampino Ve lo vado a prendere Ve lo dico Ok, ce l'ho Sì, andiamo 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 a lutar Andiamo a lutar Babam Dai Adesso devi venire Qua Adesso Dannazione Forse è lui Che è il rampino Sì, infatti O l'ha appena rubato E se è un lurido Oppure era lui Che ce l'aveva già da prima Eh, ma mi sa Sì, forse sapete Che avevano la skin Non dico uguale Ma simile Ed è là dentro Il tipo Ci scommetto tutto È là dentro E ce n'è uno lì Ok, ok Almeno sappiamo Dove sono un po' tutti E noi davvero idioti Passiamo nel mezzo Va bene Bravo Master Hai la scelta più stupida Bravo Che pelo Siamo in safe Bene, bene, bene Ritorniamo al nostro Bunker Che non è un bunker Ma è un fortino E niente Vediamo di vincerla Vai, cecchinata della vita Cecchinata della vita Dannazione Dannazione Neanche un colpo Oh, io non è che dico Vabbè, sciottiamolo Un colpo Ah, 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 ah Secondo me ce n'è uno là dentro Secondo me sì Cioè, dai Il più pericoloso Proprio me Doveva pushare Che pal Dannazione Vai Prendiamoci un po' di materials Qui c'è Non c'ho paura C'ho solo un pochino di timore Perché tu hai il rampino Ma non c'ho paura Ok, forse c'ho un po' di paura Perché hai il rampino Però, dai Ce la faremo Ce la faremo 105 Perfetto Stavo per dire Guardate quello che jumpa E invece E invece non jumpi da nessuna parte C'è quel tipo che è Stra Pericoloso Ok, l'hanno fatto cadere Edita la scala Master Bravo Quello lì è stra Pericoloso Ma stra Stra Morto Come faccia a morire così come un idiota Potevamo fare una bella vittoria reale No, non voglio neanche vederlo che valutare Proprio via Nulla tu staccato Eh, vabbè Che bug È tutto glitchato Signori Io spengo Chiudo l'applicazione Chiudo tutto Perché proprio No Non lo accetto Che morta infelice Signori Che morta infelice Quindi signori Abbiamo cavalcato lo squalo Quindi uno dei due obiettivi È stato portato a termine Siamo arrivati i quinti Mi sembra Potevamo fare meglio Lo ammetto Spero che questo video vi sia piaciuto A me è piaciuto Molto cavalcare E domare uno squalo Da domesticare uno squalo Io vi ringrazio per la visione Vi do appuntamento domani Nella solita ora Per ore 2.45 Con un nuovo video Ciao Dannazione Una cecchinata dritta in gola Ciao